Oggi c'è più che confusione una vera e propria attività di disinformazione. Il settore zootecnico della carne e del latte sono stati attaccati, ingiustamente identificati come nemici dell'ambiente. In realtà quello che noi stiamo faticosamente facendo è cercare di discutere su numeri, dati, evidenze scientifiche, fonte terze, parliamo di FAO, parliamo di Organizzazione Mondiale della Sanità e da tutte queste fonti viene fuori un dato certo. Produrre carne in Europa, produrre carne in Italia impatta l'ambiente molto molto meno che produrre carne in qualsiasi altra resta del mondo. Maggiore efficienza nella produzione, una migliore alimentazione, ricordiamo che siamo anche quarti paesi al mondo per produzione di biogas grazie proprio all'utilizzo dei reflui che ne viene fatto. Quindi vorremmo che il confronto e l'attività di comunicazione fosse basato non su approcci ideologici come purtroppo per troppo tempo è stato, non solo da parte di movimenti animalisti ma quello che dispiace di più da una parte della Commissione, da chi doveva proporre delle norme su base di studi di impatto, valutazione e dati certi che non sono mai poi stati realizzati. Forse sulla carne artificiale, che carne non è, perché come indicava la stessa FAO e OMS bisogna definirla come prodotto di laboratorio e che tra l'altro verrà seguita brevissimo dal latte, dal miele, dai formaggi, dal pesce e anche dall'ortofrutta, come una pace di chi pensa sia un problema solo del settore zootecnico, la disinformazione è massima ed è proporzionale agli investimenti che le multinazionali interessate alla produzione di questi prodotti stanno facendo. Quello che noi abbiamo chiesto è una volta per tutte, dal momento in cui ancora FAO e OMS, non certo una parte ideologicamente schierata, ha dichiarato che ci sono 53 potenziali rischi connessi alla sicurezza e al consumo di questi prodotti per il consumatore, di cui alcuni inediti, cioè nuovi, perché non è mai stato ottenuto un alimento facendo replicare in un brodo di antibiotici, ormoni e fattori di crescita delle cellule indifferenziate, allora abbiamo chiesto che venisse adeguata la procedura di valutazione del rischio, che EFSA non usasse semplicemente le attuali linee guida nel momento in cui avrà le domande di autorizzazione da parte dei produttori, non usasse le linee guida già previste per i novel food che ignorano questi rischi, ma che si migliorassero, specificassero e avvicinassero queste linee guida di valutazione del prodotto a quelle di un farmaco, perché di fatto questo stiamo parlando. E quello che non accettiamo è che mentre per autorizzare un nuovo farmaco ci vogliono circa 10 anni, un nuovo principio attivo farmacologico, per un prodotto come questo alimentare che non si è mai visto prima, qualche paese, Singapore piuttosto che gli Stati Uniti, pensano di poterlo fare, hanno pensato di poterlo fare in pochi mesi. Questo non vogliamo che succeda in Europa che è invece la sede del principio di precauzione per eccellenza.